Ilisir Ainsigne, primo napoletano capitano della nazionale. Di buon auspicio ci auguriamo per l'anno prossimo, per la squadra che sta costruendo Carlo Ancellotti e soprattutto sono soddisfatto del fatto che ieri abbiamo fatto una riunione importante in prefettura dove si è stilato il cronoprogramma per i lavori al San Paolo. Allenatore forte, stadio San Paolo ristrutturato, ci auguriamo una grande squadra per un grande Napoli e una grande città che vede sempre di più nel legame tra la squadra e la città un elemento di forza. Hai parlato del cronoprogramma quando iniziano e quando finiscono i lavori? Una parte dei lavori cominciano subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto di dopodomani di Pino Daniele. Qui c'è un cronoprogramma molto fitto, ormai siamo nel countdown, sono contento che ieri si è svolto un incontro molto proficuo alla presenza della prefettura, si è in contatto col commissario che ieri non poteva essere fisicamente a Napoli, alla presenza della regione Campania, del comune di Napoli, della società Calcio Napoli, del questore. Si sono affrontati tutti i temi, quindi credo che stiamo andando davvero nella direzione giusta, cercando di raggiungere subito gli obiettivi migliori possibili con il minore disagio possibile per tutti. Grazie a tutti.